buonasera possiamo possiamo iniziare benvenuti e benvenuti a sesto appuntamento della ciclo su idrocardino l'ultimo dei classici il primo e l'unico che si svolge sono molto felice di questo nella nostra nel nostro dipartimento questa in quest'aula tra alcuni dei presenti sono studenti che hanno seguito un corso proprio appunto dedicato a casa e come sapete il nostro ospite particolarmente gradito è domenico scarpa un poche sono molto contento di avere di avere punti di ritrovare qui dopo un po di tempo domenico scarpa è uno dei maggiori esperti del novecento italiano è dotato di competenze quasi impareggiabile sulla storia dell'editoria letteraria e del rapporto tra tra scrittori scrittrici e mondo editoriale interiore insieme docente diversi che nei dall orientale di napoli alla picocca normale è consulente letterario del centro studi timolevi di torino e i suoi lavori sono molto numerosi mi limiterò a ricordarne solo alcuni e alcuni anche a dimostrarveli in presenza diciamo innanzitutto visto l'argomento dell'incontro di oggi è un volume che risale al 1999 dedicato per l'appunto a italo calvino primo studio importante monografico su calvino successivamente a libri di domenico scarpa che mi piace ricordare storie avventurose di libri necessari uscito da vittore gaffi nel 2010 è già questo una miniera di riflessioni critiche e allo stesso tempo di dati materiali sul novecento un libro su natalia ginsburg e ancora su franco lucentini nel 2011 grande studioso perché il bambino abbiamo detto come diremo di primo levi ha curato tra le tra le altre cose l'album primo levi insieme a roberta mori e le lezioni primo levi che sono state raccolte in un volume complessivo da mondatori nel 2011 curatore delle perinaudi delle opere di natalia ginsburg persemerio delle opere di gran green ha curato per nei meridiani mondatori le opere di bottega di franco di frontevo scusate e lucenti tra i suoi ultimissimi lavori insieme a mattina mengoni un'edizione delle storie naturali di primo levi la bibliografia di primo levi voglio dire primo atlante sottotitolo che come sto per dire insomma non è un sottotitolo qualsiasi che dà anche un'idea in fondo di auga con lavoro su un cantino cristiano presentare uscito dai naudi e per appunto il monumentale cantino alla conchiglia la costruzione di uno scrittore che gli studenti conoscono su pesare se non ancora se non ancora legge di cui parleremo questo come dice ecco è un libro ovviamente di grande importanza ma anche di grande passione di grande leggibilità cioè è chiaro che non si può non si può non partire osservando la circostanza estrinseca delle sue dimensioni ma non è quello il il cuore del del volume innanzitutto è un volume che si è voluminoso per la domenico scarpa con così una ironia e understep insieme ha fornito il libro di una presentazione intitolata guida brega un libro molto lungo ma perché è un libro è un iper libro ecco forse lo definirei così anche riallacciando dalla definizione di inter storia che canti che domenico scarpa da all'interno del volume è un libro nel senso che corrisponde a una rete ecco la sua la sua estensione è anche data dalla capacità di far reagire collegare tra di loro i diversi autori autrici diverse figure non solo letterarie strettamente letterari che hanno interloquito con calvino con cui calvino è entrato in contatto è una sorta di sistema nervoso quello che ne metto il sistema nervoso del novecento forse anche il modo migliore per studiare il novecento cioè renderlo vivo e allo stesso tempo collegare diversi punti come se fosse un tessuto dentro questo sistema nervoso per vino lo sapete uno dei gangli più importanti e direi che non ci sarebbe il novecento come lo conosciamo nella seconda parte del novecento come lo conosciamo senza calvino e d'altra parte non ci sarebbe tantino senza tutto ciò che sta intorno senza appunto questa questa rete di opere idee persone lettere che hanno determinato quello che calvino non ha fatto facendolo fare ad altri o valorizzando quello che hanno fatto ad altri è un libro quindi questo di domenico scappa su calvino ma anche con calvino il campino insieme insieme agli altri ecco anche le ragioni necessarie della sua della sua della sua mole ecco questo essere una summa non solo di un autore non solo una storia di calvino ma anche una storia del novecento attraverso calvino sub specie calviniana il titolo del libro come avete riconosciuto calvino fa la conchiglia è del resto ispirato suggerito ecco da uno dei testi fondamentali calvino una cosa iconica la spirale che come sottolinea domenico scarpa si colloca a metà del cammino della dell'opera di calvin esce nel 65 quindi circa vent'anni dopo il suo esatto decisamente vent'anni dopo come sulle sue prime prove e vent'anni prima della della sua morte e questa centralità e allo stesso tempo la la forma della spirale suggeriscono in fondo anche la costruzione di questo libro che abbiamo tra le mani che allo stesso tempo lineare ma avvolgente e direi che questo duplice movimento corrisponde anche un po alla alla doppia alla doppia sequenza dei capitoli come credo che domenico scarpa ci spiegherà abbiamo dei capitoli annale che quindi procedono al filo cronologico ma anche dei capitoli saggio che approfondiscono opere e questioni insomma anche al di là della della diacronica c'è una dicevo prima che un libro molto leggibile che sa essere narrativo senza mai essere così facilmente senza mai scarire un racconto facile e uno dei punti di forza di questo libro e una delle caratteristiche della sua leggibilità è anche la ricchezza di formule e di espressioni memorabili che dottorico scarpa affidato a questo libro ce ne sono alcune appunto prima accennavo al concetto di iper storia che sono immagini eloquenti su calvino con altri scrittori per esempio famoccio è molto vero allo stesso tempo molto autenticamente dissacrante l'immagine di calvino e fortini come una grande coppia comica seria una coppia comica seria secondo secondo novecento coliciotto buone coliciotto cattivo non si sa quali dei due forse quello buono e quello cattivo in fondo e invece tornando più serie proprio della spirale del racconto della spirale dice domenico scappa che è una autobiografia della mente di calvino non di calvino ma della sua mente ecco ripare che questa definizione molto fortuna per quel testo possa essere in una certa misura estesa anche al libro intero che domenico scappa a scritte e di cui questo pomeriggio ci parla con grande piacere che vi do la parola e resta un suo fianco nel caso di dialogare o se invece non ce ne fosse bisogno lo ascolto a distanza da avvicinare grazie grazie a tutte e a tutti spero che la voce arrivi fino in fondo ok e ringrazio ringrazio nicolò scappai per la bellissima presentazione lui e riccardo castellana per l'invito e l'università di siena e dato che stiamo registrando infatti stiamo registrando apposta per quella ragione saluto immediatamente un amico che siamo andati a trovare prima e che era fisicamente impedito dallo stare con noi ciao luca baranelli che è gran parte di questo libro perché alla fine di questo libro c'è scritto che ci scambiamo figurine rare dell'album calvino da circa 30 anni e spero che continueremo ancora ancora lungo l'album calvino ecco l'album calvino finisce qui a siena perché sappiamo che calvino è morto qui all'ex ospedale di santa maria nella scala della scala del 1985 qui parliamo di ciò che calvino ha fatto al 1985 in questo libro sono dedicati ben due capitoli per la semplice ragione dichiarata nel libro che a quella giornata quella notte fra il 18 e 19 settembre 1985 facevo di tutto per non arrivarci bisognava arrivarci bisognava arrivarci in maniera vivace in maniera vitale in maniera carica di energia come è stata la scrittura di calvino e sembra strano perché quando uno fa una cosa anche una cosa così voluminosa sono 45 millimetri di dorso e 969 grammi di peso pesati sulla mia bilancia della pasta una volta che l'ho fatta deve innanzitutto capire che cosa ha fatto e oggi nel discorso introduttivo nella presentazione niccolò è venuto fuori un elemento che può sembrare strano che non me ne fossi accorto ma è così cioè che nei due libri che ho fatto in poco meno di un anno hanno dietro una lunga storia ma la bibliografia di levi è uscita a luglio dell'anno scorso e questo è uscito il 21 aprile ci sono nei titoli e nel sottotitolo rispettivamente delle immagini molto vivide che possono sembrare delle immagini di fantasia che possono sembrare responsabilità dell'autore ma in realtà corrispondono a qualche cosa che è l'autore di cui si parla che ci ha comunicato il primo atlante che è il sottotitolo della bibliografia di primo levi che uscita per inaudi il primo atlante è semplicemente una poesia di primo levi del 1980 dove lui guarda le carte geografiche che lo hanno affascinato da ragazzo e fa una sorta di poesia rap di poesia molto assonante che gioca con i significanti molto al di là di quello che noi ci potremmo aspettare da uno scrittore di contenuti di forti contenuti come levi e fa un lungo poema sui nomi sulle conformazioni sui colori delle nazioni degli stati sulla carta geografica una bibliografia non è altro che questo è il primo atlante di un autore è l'atlante la mappatura dalla quale noi possiamo cominciare a studiarlo il serbatoio primario e lo starter è il rele di ogni di ogni ricerca successiva la stessa cosa vale in maniera diversa naturalmente per calvino falla conchiglia calvino falla conchiglia nicola ve l'ha già detto qual è l'origine di questo titolo è un è un racconto è un racconto del 1965 che cade appunto a metà del percorso pubblico di calvino e ha una storia anche una collocazione particolare perché e lo dico accanto a un grande esperto di montale è una delle conclusioni provvisorie di calvino conclusioni provvisorie ricorderete sono le due poesie conclusive piccolo testamento il sogno del prigioniero che concludono la bufera e altro ecco alla fine dei due libri situati a metà degli anni sessanta scritti da calvino ci sono due racconti che sono altrettante sue conclusioni provvisorie due racconti che calvino ha considerato sempre non ha cambiato idea fino all'ultimo fino alla sua scomparsa altrettanti punti d'arrivo la spirale è il racconto che conclude la raccolta le cosmi comiche 1965 e in audi il conte di monte cristo è il racconto che conclude la seconda raccolta delle dei racconti cosmi comici 1967 c'è un autore che si reinventa un autore che cambia strada un autore che apparentemente si capovolge e vedete che così come un titolo come il primo atlante è fecondo perché da una definizione immaginosa di un oggetto a prima vista noioso come una bibliografia e dietro questo oggetto c'è una competenza verbale una competenza fabbrile rispetto alle parole umaneggiare la grana del suono la grana delle delle lettere la grana dei grammata potremmo dirlo con un con un'assonanza un'assonanza di quelle che levi di preferenza frequentava allo stesso modo nell'immagine della conchiglia perché la spirale la spirale designata dal titolo di questo racconto non è altro che la spirale descritta in senso geometrico dal da un gasteropode primitivo dei primordi attaccato al suo scoglio lo scoglio che non viene detto ma è chiaramente uno scoglio ligure uno scoglio della riviera di ponente uno scoglio san remese uno scoglio situato nel luogo che è stato il panorama di elezione di calvino il panorama del suo imprinting biologico e mentale il luogo delle sue coordinate storiche fisiche esistenziali beh dietro questa spirale che cresce che concresce con ecco con che cosa con un'attività qui nasce un nasce un primo interrogativo che come posso dire io cerco di enunciare immediatamente nelle presentazioni di questo libro calvino fa la conchiglia dico proprio nella prima frase del libro racconta la storia di italo calvino e in una frase così semplice soggetto predicato complemento complemento oggetto più complemento di specificazione già lì sorgono sorge una quantità interrogativi una quantità di trabocchetti in realtà che si aprono calvino funziona così è uno scrittore che continuamente ti spinge in avanti continuamente ti alletta ti ti irretisce nella sua prosa ti risucchia ti trascina dentro e ti fa fare una serie di giravolte e ti dà una serie di sgambetti mentali che ti aiutano a pensare che ti rafforzano che ti fanno scattare in piedi più desideroso di continuare a dove sono le difficoltà in questa frase intanto il fatto di raccontare in critica letteraria in teoria letteraria non è così scontato come si come si racconta come si raccontano le idee di uno scrittore come si racconta uno scrittore si cerca ma ci torno dopo di rendere almeno questo è stato il mio tentativo di rendere il più possibile limpida una cosa che non è né semplice né lineare ma quello il trabocchetto sta soprattutto nei singolari racconta la storia di italo calvino la storia di italo calvino non è una storia singolare e non è una storia lineare è un fascio di storie che non si vuole neanche dire che si dipartono da un punto perché non c'è neanche il punto di partenza noi letteralmente questo scrittore non sappiamo dove quando sia nato sul dove sappiamo che ha un'origine remota per ragioni biografiche i suoi genitori erano due scienziati di fama internazionale direttori di una stazione sperimentale di agronomia all'estero a cuba a santiago della svegas un soborgo dell'havana e come posso dire non c'è neanche un inizio della sua vocazione di scrittore perché per qualsiasi scrittore gli inizi sono imprecisabili anzi gli inizi non sono neanche quelli del suo scrittore sono quelli di un disegnatore sono quelli di qualcuno che vedeva fin dal primo momento il mondo per immagini uno che si leggeva il trattato di elementi di disegno di raskin uno che prendeva lezioni informalmente da uno dei maggiori disegnatori per l'infanzia che abbia avuto l'italia del novecento cioè antonio rubino sanremese 1880-1964 che frequentava negli anni venti villa meridiana dove i genitori di calvino mario calvino ed eva mameli si erano trasferiti ritornando in italia nel 1925 quindi c'era questo grande disegnatore dal segno memorabile inciso un un liberty essenzializzato molto novecentesco molto furbo molto ironico auto ironico che guida la mano di questo bambino e bambino se la lascia guidare poi la sfrenerà questa mano e non sappiamo quando comincia a scrivere perché la maggior parte dei suoi tentativi giovanili noi non la conosciamo noi conosciamo la scrittura di calvino per quanto riguarda le sue lettere lettere ai genitori lettere al suo amico eugenio scalfari compagno di banco le conosciamo a partire dal 1940 quindi dall'età di 17 anni chiunque di voi se si ricorda la propria vita ai 17 anni sa che già a quell'altezza se tagliamo il vostro tempo all'età di 17 anni potete riconoscere a voi stessi molte stratificazioni molte auto pre storie da raccontare con questo ci avviciniamo di nuovo alla spirale la storia di calvino una storia che non comincia questo ci ricorda qualcosa ci ricorda le lezioni americane ci ricorda la lezione scartata cominciare e finire come si fa a cominciare un racconto può cominciare un racconto possiamo prendere un punto nell'infinito possiamo fare quell'operazione di ritaglio nell'universo delle cose narrabili che suggeriva Auerbach nella tecnica di composizione della novella che calvino cita in quella lezione americana dove si comincia una storia e così come è difficile individuare la storia o meglio la si può individuare ma non è una sono molte e non cominciano quindi bisogna andarli ad acchiappare come se si andasse a raccogliere farfalle con il retino l'immagine ovviamente viene suggerita dal lobby di una persona molto ammirata da calvino che era vladimir nabokov allo stesso modo non esiste italo calvino come nome singolare italo calvino i suoi lettori lo sanno è stato uno scrittore molto sfuggente molto vario molto molto molteplice è bene dirlo così un po scorrettamente non solo perché l'ultima lezione americana che ci rimane è quella intitolata molteplicità ma perché non c'era bisogno di quella lezione americana per vedere quante strade abbia cambiato perfino i due libri che ho nominato per primi cioè le Cosmicomiche e Tic con Zero che in linea di principio sono due raccolte di storie dello stesso genere quei due libri sono diversi come il giorno e la notte non mi dilungo su questo cerco di mostrarlo nel mio libro per dire uno scrittore che cambia tante volte strada e che pure va ricondotto ricondotto a un'unità e allora capite che forse effettivamente ha una giustificazione la definizione che ha dato Niccolò Scaffai di questo libro, un iper libro io non l'avevo pensato così nel senso volando più basso mi ero detto librosfera oh Dio, librosfera è abbastanza ambizioso se uno pensa a Parmenide non si può fare a meno di pensarci e soprattutto se si pensa suggerimento di lettura ne arriveranno altri al prologo a Parmenide di un libro bellissimo che è Fatto Antico e Fatto Moderno di Giorgio De Santigliana storico della scienza di cui si parla parecchio in questo libro qui io dicevo librosfera libro mosaico già vogliamo più basso libro a tecnica mista libro freestyle se volete non tanto non tanto free ma iper libro effettivamente perché se vuoi sperare di organizzare del materiale intorno a uno scrittore così uno scrittore che ha attraversato più di mezzo secolo di storia qui sembra che mi contraddica dico non sappiamo dove situare l'inizio no? di questo scrittore eppure la sua autocoscienza di lettore e di spettatore di film viene fuori già dalle prime lettere dai primi scritti dei primi anni 40 che noi abbiamo di lui per non parlare delle prime testimonianze di scrittura creativa vera e propria cioè gli apologhi che i 26 brevi apologhi che ha scritto fra il 1943 e il 1944 è l'unica commedia conosciuta della sua produzione teatrale che in quegli anni è stata piuttosto vasta cioè i fratelli di Caponero c'è un guizzare c'è una cattiveria proprio dialogica mi viene in mente per quella commedia scordiamoci il barocco ma la cosiddetta lengua chiantuta di Giovanni Battista Basile nell'Ucunto degli Cundi il dialetto tosto e lì c'è una radice di dialetto Sanremasco bisogna usare l'aggettivo antiquato non Sanremese ma Sanremasco bisogna usare l'aggettivo vecchio per parlare della lingua di Calvino in quel periodo beh quello ci fa pensare che nei cassetti di Calvino ancora inediti ci siano delle cose da leggere a cominciare dalla commedia della gente che nel 1942-43 vince addirittura un premio e che non viene rappresentata pubblicamente solo perché nel frattempo c'è il 25 luglio il fascismo cade 45 giorni di Badoglio ammissizio con gli alleati invasione da parte delle truppe naziste fuga del re e dissolvimento dell'esercito resistenza vedete quante cose nel giro di poche settimane nel giro di pochi mesi da quel momento dal 1940 in poi dall'entrata in guerra titolo di uno dei suoi racconti più belli Calvino attraversa tutta la storia del novecento fino alla vigilia della caduta del muro di Berlino tutti gli avvenimenti italiani tutti gli avvenimenti della politica internazionale in maniera frontale o di striscio lo vedono presente lo vedono protagonista lo vedono scrivere di queste cose o comunque riflettere su queste cose o rifletterle dentro la sua scrittura riverberarle in maniera non a volte non perspicua a volte non immediatamente decifrabile se non in filigrana Calvino fa la conchiglia Calvino fa la conchiglia qui ho cambiato frase semplice finora abbiamo detto Calvino fa la conchiglia racconta la storia di Italo Calvino punto ma il problema qui lo dà innanzitutto il titolo perché intanto questa conchiglia ve l'ha detto ve l'ha detto Niccolò Scaffai e io la ritengo un'autobiografia della mente di Calvino dico un'autobiografia della mente di Calvino per per sfuggire a varie trappole innanzitutto alla trappola di stabilire una equivalenza un'equipollenza un legame diretto fra la biografia e la scrittura questa è una cosa che quando si scrive di uno scrittore bisogna stare molto attenti a non fare e bisogna stare molto attenti anche al tipo di documentazione che si usa cioè è molto facile per uno scrittore come Calvino del quale restano tante interviste tante lettere tanti testi di autocommento scrivere un libro anche lunghissimo anche più lungo di questo spiegandolo con lui stesso spiegandolo con i suoi autocommenti prendendolo per per buono in ogni affermazione che fa su se medesimo e qui a Siena nella sede del centro Fortini che ha fra i suoi nomi tutelari Pier Vincenzo Mengaldo non devo come dire ripetere l'esortazione alla diffidenza nei confronti degli autocommenti degli scrittori che Mengaldo ha insegnato per tutta la vita è una lezione è una lezione preziosa allora fare la conchiglia significa trasporre in maniera immaginosa in maniera libera in maniera non ortogonale in maniera rifratta in maniera non perissequa le linee i punti le proiezioni di una possibile biografia che è quella dell'individuo Calvino ma anche quella di un everyman del 900 un'autobiografia di tutti la conchiglia è una forma geometrica è una forma ordinata è una forma che Napocco che ho già nominato nella sua autobiografia Speak Memory che è un libro stupendo ha paragonato il movimento di concrescita di una conchiglia di una spirale su se stessa ai tre movimenti della dialettica di Hegel e credo che sia un'immagine feconda e sia un'immagine rivelatrice anche per Calvino che è uno scrittore per il quale Hegel la dialettica e la fenomenologia dello spirito con le sue figure è stata importantissima c'è un capitolo su questo che si intitola La pietanza di uno scrutatore dove la presenza di Hegel è dichiarata e io ho cercato di portarla fuori da quegli accenni molto labili che Calvino ne fa in un punto del racconto però se noi dobbiamo prendere sì le lumache non le conchiglie hanno le corna se noi dobbiamo prendere non la spirale e la conchiglia ma le corna della lumaca per le sue corna fuori dalla sua conchiglia il problema di Calvino sta tutto nel verbo d'azione Calvino fa la conchiglia perché io credo che qui arriviamo al centro di questo libro al centro del problema che ho cercato di individuare in questo libro di cui dopo con una sorta di provvesciamento logico di steron proteron di quello che vi sto presentando vi racconto un attimo la struttura Niccolò qualcosa l'ha detta il problema di il problema di Calvino è che ha sempre cercato di crearsi dei problemi nel momento in cui si metteva a scrivere è stato uno dei talenti nativi più limpidi più gioiosi più luminosi che la narrativa la letteratura del novecento abbia avuto Calvino anche nei suoi momenti più più contorti più intorcinati è uno che quando attacca a raccontare ti prende immediatamente ti può raccontare ti può dire sulla sua pagina qualsiasi cosa tu gli vai dietro e però questo talento che possedeva che ha sempre posseduto non solo non gli è mai bastato ma ne diffidava e io credo che questo non solo questo ma questo certamente sia il segno della presenza di un grande scrittore che anche un grande intellettuale se voi andate a vedere come funzionano i grandi scrittori non parlo solo di Calvini i grandi scrittori sono quelli che in un modo o nell'altro hanno trovato la maniera di maltrattare il proprio talento di andargli contro di contrastarlo proprio di violentarlo in qualche maniera di metterlo alla prova di metterlo a un paragone allora questa felicità espressiva così limpida di Calvino veniva confrontata da Calvino stesso a una serie di difficoltà di contraint di costruzioni strutturali di esclusioni di imperativi compositivi che sono stati nel corso della sua vita sempre più difficili però con una contraddizione e qui ritorno al fatto che bisogna diffidare di quello che gli scrittori ci raccontano su se stessi Calvino ci racconta molto spesso che non riesce a scrivere se non ponendosi difficoltà strutturali difficoltà addirittura combinatorie problemi combinatori al limite del risolvibile è vero? sì per una parte è vero per un'altra parte quello che Calvino è riuscito con successo a occultare a distrarci da quello che stava facendo quello è riuscito a occultare è la componente di arbitrio che si è sempre riservato se ci fate caso anche le sue storie più famose la trilogia dei nostri antenati il sconte di mezzato il barone rampante il cavale inesistente sono delle costruzioni e delle concatenazioni molto logiche di avvenimenti d'immagine che però partono da un dato arbitrario da un dato fantastico da un guizzo immotivato questo lo si trova un po' in tutto Calvino scritto tante pagine evito di fare esemplificazioni perché mi interessa ritornare a quel verbo Calvino fa la conchiglia usare usare il verbo d'azione più facile più concreto della lingua italiana era una scelta in realtà antifrastica vi dico all'inizio di ogni ogni testo che ho scritto ogni racconto ovviamente adesso non non lo troverò eccolo qua Calvino fa la conchiglia i capitoli saggio su cui torno fra qualche minuto i capitoli saggio hanno tutti una sorta di argomento una sorta di riassunto anticipato come li trovate in Cervantes in Swift in Stevenson li trovate fino a Musil anche nell'uomo senza qualità li trovate Calvino fa la conchiglia e l'argomento dice dove il nostro eroe ci racconta con digressioni in che modo l'ha fatta può darsi però che la forma del verbo non sia precisa qui tocchiamo il punto quello che dico in quella guida breve a un libro molto lungo è che il lettore alla fine del capitolo dovrebbe ritornare a questo cartiglio a questo argomento per decidere se questo argomento era appropriato a quello che ha trovato scritto fino a quel momento se ho scherzato se ho detto scemenze oppure se questo riassunto anticipato aveva una sua pertinenza rispetto a quello che ho detto poi perché che la forma del verbo non sia non sia precisa perché Calvino in qualche modo vuole convincersi un po' come Edgar Allan Poe nella filosofia della composizione dove a posteriori ci vuole dimostrare che Draven il corvo doveva essere così e non si poteva scrivere altrimenti e tutto era preordinato dall'inizio e ogni passaggio successivo era necessariamente predeterminato al cento per cento da quello che veniva prima cioè che quella poesia che prima non esisteva non solo doveva esistere ma doveva esistere esattamente come lui l'ha fatta venire dopo forse per questo piaceva anche a Benedetto Croce perché sembra che la 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 l'estrinsecazione di intuizione in espressione probabilmente trova nella filosofia della composizione tipo la dimostrazione più immediata più completa più esaustiva più palmare usate la digressione Calvino si vuole convincere che la conchiglia la fa lui laddove i suoi racconti ci raccontano un'altra storia ci raccontano la storia di una conchiglia che si fa malgrado lui che si fa a dispetto di lui che si fa contro di lui e ci raccontano ancora di più quello che sta dentro la conchiglia cioè la polpa che viene tenuta ben nascosta questo nucleo di inermità biologica di inermità psichica e ripeto non si vuole fare la psicologia o tantomeno la psicanalisi di Calvino si vuole esaminare un corpus linguistico di testi una serie di eventi di una vita intellettuale per capire come hanno funzionato per davvero se può esistere una verità possibile al di là di quello che l'autore ci ha raccontato raccontare anche la storia della polpa di Calvino e raccontarla senza partiti presi raccontarla in modo concreto per questo il verbo è un verbo d'azione Calvino fa la conchiglia ed è un verbo concreto e per questo il sottotitolo la costruzione di uno scrittore è a sua volta un titolo antifrastico perché è tutto da dimostrare che lo scrittore costruisca a se stesso così come aveva voluto la costruzione di uno scrittore significa almeno tre cose significa lo scrittore come si è costruito lui come ha costruito se stesso la costruzione di uno scrittore significa la costruzione fatta da uno scrittore e terzo molto nelle retrovie la costruzione di uno scrittore fatta da colui che sarei io il cui nome sta sulla copertina e lì bisogna vedere se funziona e io lì mi sono dato un caveat che nelle cose che ho scritto su Calvino era lì fin dal fin dal 1988 nel senso che questo libro qui è stato scritto da bisogna usare direttamente la prima persona la prima volta che ho ritagliato da un giornale un articolo di Calvino era il 27 agosto 1981 questo me lo ricordo perché il ritaglio ce l'ho ancora avevo da poco compiuto 16 anni era un articolo su era un necrologio era un articolo su una giornalista culturale Maria Livia Serini che era figlia di un francesista Paolo Serini consulente dell'Einaudi grande erudito non soltanto in francesistica diciamo padrone mentalmente di tutta la modernità e delle lingue della modernità la sua figlia è stata una giornalista culturale che nel 1948 era riuscita a mettere a segno uno scoop era entrata nella casa editrice in Audi e aveva sorpreso alle rispettive scrivanie Cesare Pavese il quale abborriva le interviste e abborriva vedersi fotografato Natalia Ginzburg e Italo Calvino per tutti e tre sembra strano essendo Pavese già famoso a quell'epoca per tutti e tre era la prima intervista in assoluto non è censita nelle bibliografie di nessuno dei tre tranne che di Cesare Pavese la bibliografia di Monica Lanzillotta la censisce ma era sconosciuta questa intervista alle bibliografie di Natalia Ginzburg e di Calvino e come posso come posso dire di questa intervista dico poi per concludere una cosa con la quale forse concludo proprio il discorso ma da quel momento dal 1981 quando ho ritagliato quell'articolo che poi mi ha messo anche sulle piste di questa intervista che ho ritrovato alcuni anni dopo e che per la prima volta viene commentata in questo libro qui ripeto non è stata più riproposta io ho cominciato a raccogliere tutto quello che trovavo di e su Calvino e vedete che ritorniamo di nuovo alla bibliografia di Primo Levi a raccogliere al raccolto primario all'esplorazione dei testi primari alla raccolta di tutto quello che uno scrittore ha scritto non è scontato qui abbiamo due esperti di Montale che sanno quanto quanto anche il ritrovamento dei testi primari fino a tempi recentissimi abbia dato frutti nuovi rispetto a quello che era acquisito dalle bibliografie il raccolto non è finito degli scrittori del novecento anche dei più famosi non sappiamo quello che hanno scritto l'espressione provocatoria ma neanche tanto se si pensa che non molti anni fa ho ritrovato testi di Carlo Emilio Gadda cioè di uno scrittore su cui esistono biblioteche nel Corriere della Sera e nel Corriere di Informazione cioè nel più diffuso quotidiano italiano non censiti da nessuna parte quindi come dire è un invito alla ricerca è un'esortazione anzi è un avvertimento è un incitamento dirvi c'è un terreno vergine enorme l'Università di Siena è anche un centro di ricerca su alcuni dei massimi scrittori del novecento a cominciare da Fortini c'è tutto ancora da fare e come lo si fa? nel 1988 ho scritto un dattilo scritto di circa duecento pagine su Calvino l'ho mandato al premio Calvino che all'epoca era anche per la saggistica non l'ho vinto l'ha vinto giustamente Claudio Milanini che due anni dopo avrebbe pubblicato la prima grande monografia su Calvino l'utopia discontinua però quel dattilo scritto mi è servito tre anni dopo per fare una tesi di laurea una tesi che attenzione non era in lettere ma in scienze politiche perché io non sono laureato in lettere ho preso due dottorati in italianistica in letterature comparate dopo quando avevo oramai 36 anni ma laureato sono laureato in scienze politiche e già questa tesi e già quel dattilo scritto del 1988 avevano la seguente epigrafe da Calvino che mi ha accompagnato da allora e mi stupisco francamente che nessuno studioso l'abbia mai citata come autocaveat che si sia messo davanti allo specchio di questa citazione monitoria che viene da se una notte divenne un viaggiatore sentite qua è dal diario di Silas Flannery che in quel romanzo nella cornice di quel romanzo è l'alter ego l'avatar di Calvino romanziere è venuta a trovarmi una ragazza che scrive una tesi sui miei romanzi per un seminario di studi universitari molto importante vedo che la mia opera le serve perfettamente per dimostrare le sue teorie e questo è certamente un fatto positivo per il romanzo o per le teorie non so allora questo guizzo di Calvino direi che basta a mettere sull'avviso qualsiasi studioso qualsiasi biografo qualsiasi critico letterario rispetto a quelle che possono essere le sue intenzioni dichiarate e le sue intenzioni nascoste tutte hanno delle pieghe tutte hanno dei nascondigli per citare di nuovo Montale tutte hanno dei trabocchetti ed è per questo che il libro è venuto a tecnica mista o un libro freestyle Calvino bisognava in qualche maniera dargli respiro farlo respirare dargli libertà dargli la possibilità di scappare nei boschi di fare lo scoiattolo della penna formula che in questo libro quasi non compare ho voluto anche evitare le definizioni più più conosciute dargli respiro però come dire guardandolo un po' da tutti i lati guardandolo da tutte le angolazioni ed è per questo che è venuto fuori un libro ed è venuto fuori nel corso della lavorazione all'inizio non c'era questo progetto ho avuto una casa editrice che è stata molto complice di questo progetto di scrittura un libro che ha un cardine lineare che sarebbe la biografia sarebbero i capitoli annali si parte dal 1875 anno di nascita del padre di Calvino Mario e si arriva appunto a quel 19 settembre 1985 Sieda al quale vi dicevo all'inizio non volevo in nessun modo arrivare quindi un arco di 110 anni raccontati per spezzoni significativi c'è qualche anno che ha un capitolo a sé un esempio per tutti il 1956 anno della rivolta d'Ungheria anno che prepara la fuoriuscita da partito comunista da parte di Calvino qui abbiamo la massima esperta dell'argomento Anna Baldini che ne sa di queste vicende e diciamo anni più lunghi arcate più lunghe nelle quali c'è molta roba cioè per esempio l'arcata 1971-79 però a inframmezzare questi tagli biografici questo cardine lineare che serve a chi legge per sapere sempre dove si trova e quando si trova in qualsiasi momento a orientarsi in uno spazio tempo che non è solo quello della storia di Calvino ma è uno spazio ci ritorniamo della storia storica civile politica letteraria dell'Italia dell'Europa e del mondo Calvino a questa dimensione a inframmezzare dunque i capitoli annale ci sono quelli che ho chiamato capitoli saggio capitoli saggio sono capitoli dedicati a un'opera di Calvino a un genere letterario che lui ha frequentato esempio non scrivere un romanzo dove si racconta una storia che pochi conoscono cioè che questo Calvino scrittore così luminoso così felice così abbandonato incorre quasi immediatamente dopo il 1945 in una crisi creativa lunghissima che si protrae per ben quattro anni dal 1948 al 1951 quando finalmente si sblocca scrivendo come uno schiocco di dita il Visconte di Mezzato è una storia molto in ombra perché sembra che Calvino sia uno scrittore flourishing non lo è non lo è sempre allora capitoli saggio su occhi capitoli saggio su generi letterari capitoli saggio su temi il paesaggio cosa che sta giustamente molto a cuore a Niccolò il paesaggio il paesaggio ecco lì veramente il singolare è serio perché Calvino ha abitato da un sacco di parti e molti luoghi se li ha inventati ma il suo paesaggio è quello di Sanremo della riviera di Ponente e lì di lì derivano tutte le sue coordinate fisiche mentali biologiche perfino politiche come cerco di far vedere in un confronto per esempio con l'opera di Giovanni Boine altro Ligure suo conterraneo altra cosa non mi pare fosse stata fatta finora oppure panorami letterari esempio andare a fare la radiografia di quella straordinaria occasione che fu il convegno di San Pellegrino Terme del 1954 dove nove scrittori celebri anziani presentavano nove giovani debuttanti o semidebutanti Calvino presentato da Leoni da Repaci Zanzotto presentato da Ungaretti Parise presentato da Comisso Bassani presentato da Emilio Cecchi e sorpresa uno che giovane non era Lucio Piccolo presentato da Eugenio Montale e che si presenta piccolo a San Pellegrino Terme con suo cugino che era lo sconosciuto Giuseppe Tomasi Lampedusa è una storia divertentissima e scatenata e anche amara in fondo che qui viene raccontata in tutte le sue pieghe ricostruendo lo scontro quasi a urlacchiate tra Calvino e Zanzotto debuttanti e supposizioni politico-esistenziali opposte chi lo direbbe però i fatti almeno per come ho cercato di ricostruirli cantano oppure altra panoramica leggere le città invisibili non come libro monistico libro sfera moci vuole catapratto su se medesimo ma come autobiografia non di Calvino bensì dell'intero dopoguerra letterario italiano è un tentativo che faccio o ancora visto che sempre in onore in onore a Siena incontri e scontri culturali di quello Zanzotto ha detto ma la storia tanto favoleggiata come dire letta con lenti fortemente cromatizzate la storia di Pasolini e di Calvino beh qui cerco di ricostruirla nei suoi fatti concreti dall'inizio alla fine così come viene ricostruita per pezzi e bocconi è un personaggio che ritorna continuamente Franco Fortini nei suoi litigi con Calvino Calvino lo definisce il suo implacabile interlocutore antitetico e ogni tanto spunta Fortini come reagente fortemente reattivo come personaggio comico serio Calvino e Fortini sono una coppia comica che ci dice molto del novecento italiano e il bello è che come dire con la sua malpensanza Fortini spesso proprio lo inchioda parlavo di Hegel prima racconto un fattariello alla napoletana Calvino va negli Stati Uniti dice vado negli Stati Uniti prendendo per partito preso il non fare l'anti-americanista ex-comunista che vede tutte le storture tutti i guai del capitalismo tutta la disumanità di una società spersonalizzata industriale bla bla no io vado lì per capire che cosa succede anzi cerco di mettermi nei loro panni di ragionare con la loro testa e ragionando con la loro testa scrive una lettera a Fortini vigilia di Natale 1959 la letterina di Natale di Calvino a Fortini è guarda questi si sono tanto bravi intelligenti ma sono spappolati dentro non hanno il senso della storia non capiscono niente non hanno profondità non hanno il senso del tempo non hanno Hegel guarda che se veniamo qui a mettere un collegio hegeliano ci facciamo i soldi appalati perché non vieni qui a fare un convegno hegeliano la lettera arriva molte settimane più tardi Fortini gli risponde con ritardo e lo liquida in maniera super ah si Hegel si si non mi dire niente so tutto alla fine al posto di saluti quando torni a mentirci allora queste cose qui io credo che siano sublimi sia nel senso proprio del sublime estetico ma sono sublime anche nel senso di un sublime politico di un sublime sociale in cui a Siena state studiando al centro al centro Fortini allora come dire il senso di una profondità delle storie dentro la storia è quello che io cerco di dare con questi capitoli saggio questo libro ci avrà 50 capitoli o poco sì ne ha una cinquantina sono bilanciati circa 25 capitoli annale circa 25 capitoli saggio e quella parola che pure Niccolò ha pronunciato iperstoria significa nelle mie intenzioni c'è un capitolo dedicato a questo tema dove si parla di De Santillano altro nome che è venuto fuori l'esordio dell'iperstoria Calvino che ascolta una conferenza di Giorgio De Santillano e ha l'idea per la prima volta delle Cosmicomiche e si immagina una storia più larga e più profonda una storia che non sia soltanto quella scusate il bisticcio storicizzato ma che comprenda le epoche innumerabili che non sono ricostruibili che non sono analizzabili la preistoria anche la preistoria dell'uomo la preistoria della percezione la preistoria dell'universo una storia che si allarga ben al di là dei limiti ristrettissimi dei diecimila anni o poco più di storia umana documentabile con tracce l'iperstoria in Calvino è questo ecco se c'è una cosa che questo libro cerca di fare è allargare la storia di Calvino in tutte le dimensioni e renderla leggibile renderla leggibile in che modo? dato che un libro così lungo appunto abbiamo detto guida breve è un libro molto lungo perché non solo sono 848 pagine ma poi si possono anche guardare le figure ci sono due sedicesimi a colori e ho aperto sulla prima spirale da cui ho preso le mosse ho preso l'idea cioè Calvino a 11-12 anni legge questo libro The Expanding Universe e di Sir Arthur Eddington l'universo in espansione tradotto da Giorgio de Santillana guarda caso perché le storie sono tutte intrecciate per Zannichelli nel 1934 e vede la prima galassia conchiglia sulla 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 copertina mica per niente poi scrive un racconto come la spirale 30 anni dopo il tentativo che ho fatto con questo libro così lungo e di renderlo leggibile allora voi sulla pagina intanto non trovate lo zoccolo con le note a piedi pagina e non trovate neanche gli esponenti di nota in pagina perché tutto quello che il tentativo che ho fatto pervicacemente con l'aiuto della casa editrice che vuoi dire mi controllava io cercavo di scrivere in modo da capire quello che stavo scrivendo da non fare finta di capirlo da capirlo fino in fondo la casa editrice doveva avere una sorta di contro comprensione dovevano a loro volta vedere se capivano quello che avevo messo sulla sulla pagina e solo allora si andava avanti in pagina non ci sono neanche gli esponenti in nota perché tutto quello che serve per capire dove stiamo chi sono i personaggi cosa sta succedendo qual è la la direzione degli eventi deve stare tutto qui e non in un altro posto le note stanno dietro sui margini ci sono i numeri di pagina per ogni citazione e le citazioni in linea di principio sono puramente bibliografiche cioè non vi vengo a citare tutta la massa di roba che avrò letto su un argomento vi cito soltanto quelle che sono state le mie fonti dirette o quello che sto citando in quel momento con la massima precisione dopodiché c'è una mappa bibliografica che ricalca lo schema della bibliografia di Primo Levi su cui per ora non mi dilungo c'è un indice delle opere di Calvino perché dato che di un'opera di Calvino ammettiamo del Barone Rampante si parla nei luoghi più impensati non solo nel capitolo dedicato al Barone Rampante ma anche in altri punti del libro chi vuole raccogliere chi vuole vedere tutti i punti dove si parla di quell'opera lì va nell'indice delle opere e si cerca tutte le pagine dove quell'opera è citata oppure anche all'usa e poi naturalmente un indice dei nomi fondamentale non solo in un libro così lungo in un libro saggistico in un libro di studio in un libro di reference in un libro dove le note a piedi pagina non ci sono quindi c'è bisogno di tutto questo ritorno come avevo promesso a quella intervista ritrovata quella prima intervista che ha chiuso il cerchio di fatto di 42 anni di ricerca tanti ne sono passati dal 1981 l'intervista di Maria Livia Serini che si presentava così abbiamo intervistato tre scrittori con le tre fotine compreso Pavese la fotina di Pavese è straordinaria perché non solo è Pavese fotografato ma Pavese è fotografato a torso nudo con un remo perché sta pagaiando sul po e questa fotografia ha una storia Maria Livia Serini era andata a scovare l'almanacco della Medusa Mondadori in 1934 anche queste sono cose lavorando con il gruppo di Michele Sisto le sa bene nel 1934 Mondadori quando esce il cinquantesimo numero della Medusa della grande collana di scrittori stranieri quella con la copertina verde dedica un intero almanacco letterario ai libri che sono stati pubblicati a quelli che verranno pubblicati e udite udite nell'Italia degli anni trenta per la prima volta i traduttori diventano dei protagonisti diremmo oggi diventano delle rockstar e lì bisogna proprio dirlo perché i traduttori vengono raccontati anche fotografandoli corso nudo e la mette in questa intervista dove Calvino dice poche parole ma dice una cosa sento come un intercapedine in me come un qualche cosa che mi separa dal mondo che mi impedisce di comunicare direttamente questa cosa e l'intercapedine è stata ed è uno dei capisaldi di questo libro qui nel momento in cui quelle poche parole si sono andate a legare con l'incipit cancellato e riscritto delle prime parole della prima del primo capoverso della prima pagina del primo libro di Calvino cioè il sentiero dei nidi di Ragno le prime parole del sentiero dei nidi di Ragno dicevano così testuale non un intercapedine una strada folgorante e indecasillado non un intercapedine una strada e non un intercapedine una strada ma stretta e fonda che per arrivare fino in fondo al vicolo i raggi del sole devono scendere diritti e la senti le pareti fredde e qui riconoscete l'incipit vero del sentiero dei nidi di Ragno ma le prime parole cancellate fino a ma stretta e fonda sono state cancellate sul dattilo scritto del sentiero dei nidi di Ragno che era stato mandato al premio Riccione da Calvino prima ancora che il libro fosse pubblicato dai nidi l'intercapedine che figura in quell'intervista che figura nelle prime parole cancellate del suo primo libro che figura in altri due racconti inediti di quegli anni lì 1946-47 diventa una delle chiavi per questo libro fino naturalmente a legarla ma lì era fin troppo facile con quell'intercapedine di distanza che il barone rampante mette tra sé e gli altri uomini e dato che sono le 5 e 25 per non mettere altre intercapedine fra me e voi finisco in questo momento spero dopo avervi messo un po' di appetito grazie grazie Domenico Scarpa questa bellissima lezione che sviluppa gli argomenti e la struttura le questioni del suo libro e come diritto ma spero che non sia davvero solo un rito ma una sollecitazione che avrà delle risposte autentiche ciò chiedere se dal pubblico ci sono delle domande delle curiosità interventi mentre mentre ci pensate come se però forse Riccardo sì sarei io che calore salata che raggiungi e amori me intanto perfettamente d'accordo con te sulla centralità di Calvino nel panorama del secondo centro certamente è un autore che permette di capire molto bene quello che succede in un arco di tempo che va dagli anni 40 come dice tutti no ai primi anni a tarta la domanda che ti vorrei fare riguarda appunto la storicità dell'opera di Calvino quindi se non capisco bene ripeto la tua immagine della spirale del guscio e della polpa o del midollo magari il midollo certo rimaniamo in ambito calviniano se capisco bene tu sostieni che quello che Calvino costruisce intorno a sé questo guscio che lo costruisce è un po' un'immagine pubblica una maschera una sorta di maschera che lo presenta di volta in volta come un autore diverso e che però poi alla fine in qualche modo diciamo ha una sua organicità ha una sua una sua consistenza e poi faceva il riferimento a una polpa o un midollo a un nucleo diciamo nascosto che Calvino vuole nascondere se capisco bene anche al di là appunto degli autocommenti che qualche volta ingannano qualche volta invece mettono sulla buona sensazione secondo me cioè bisogna sempre vagliare con attenzione a quello che Calvino dice ecco vuole capire se anche questo midollo anche questa polpa nascosta ha una sua storia cioè se tu lo intendi lo interpreti nel tuo libro come qualcosa di in qualche modo diciamo già definito al tempo del sentiero insomma negli anni 40 oppure se pensi che questo nucleo profondo e nascosto sia anch'esso in evoluzione eh bella domanda Riccardo allora è fin troppo facile ma è anche vero dire che tutto Calvino con tutte le sue componenti è sempre in in evoluzione è verissimo che allora io credo che sia stata eh sopravvalutata la componente geometrica la componente strutturale la componente della simmetria in Calvino che in realtà il posto del guizzo dell'arbitrio del del talento del dello scatenamento verbale anche in una prosa sempre controllatissima per carità eh sia finito in secondo piano cioè Calvino non mi sembra affatto uno scrittore freddo né come scrittura né come temperamento né anche come persona per la verità e allora valeva la pena di raccontare questa storia sia dal punto di vista dei fatti appunto i suoi incontri i suoi battibecchi con Confortini o con Pasolini non hanno assolutamente niente di freddo così come non hanno nulla di freddo i suoi confronti con amici non ne ho fatto scendo ma è una storia straordinaria quella che si può raccontare e l'ho raccontata sui suoi rapporti con Borges e Cortasa senza dire le solide cose sulla metalletteratura raccontando i fatti dal punto di vista della della polpa o del midollo il rapporto di Calvino con il suo nucleo segreto che lui vuole tenere segreto tant'è vero che ci vorrebbe a raccontare le storie di Paolo Mar in prima persona eliminando quell'intercapedine tanto più che molte di quelle storie erano raccontate in prima persona e quando poi lui fa il libro le trasporta le ribalta sulla terza che ci voleva questo rapporto questo rapporto cambia cambia sempre e come dire arriva periodicamente a delle crisi delle crisi che a volte sono esistenziali e ci riguardano meno certamente il momento in cui finisce la sua storia con Elsa De Giorgi è un momento di crisi ma lì ci interessa vedere come si risolve in scrittura lì c'è un salto che è un salto incalcolabile dalla fine di quella storia mettiamo al cavalierne esistente o a uno dei più bei racconti di Calvino che è l'avventura di uno sciatore un altro singolo racconto al quale dedico delle pagine ma poi ci sono dei momenti dei momenti di crisi che sono dei momenti di crisi privata che trova risonanza in una crisi pubblica in una crisi storica il 1963 quando Calvino si mette a scrivere la giornata uno scrutatore è un momento in cui una crisi del suo midollo e si potrebbe dire un midollo che è stato definito perfino religioso teniamo conto che Calvino era un ateo integrale ma il senso del sacro il senso del mistero il senso del dell'irraggiungibile dalla ragione dell'inafferrabile della ragione Calvino l'ha avuto sempre fortissimo e ci sono dei momenti in cui è una sua peculiarità il suo sentire privato entra in forte risonanza con fatti storici di lungo periodo di longue durée che stanno che si stanno sviluppando a volte in superficie molto più spesso in maniera sotterranea in quella fase storica gli succede allora gli succede negli anni settanta negli anni del terrorismo gli succede con le città invisibili gli succede negli anni in cui sta a Parigi e non scrive quasi niente o magari scrive e non pubblica quasi niente io credo che si possa fare con molta con molta discrezione ho cercato di farla anche la storia di questo midollo di Calvino in evoluzione ci sono molti momenti del genere ecco a nasco perché mi piacerebbe tanto prenderne uno e raccontarlo ma sarebbe troppo lungo l'ho fatto qui comunque la risposta è sì è in evoluzione e dentro questa evoluzione finisco dicendo questo c'è secondo me e provo a dirlo una coerenza la coerenza di Calvino che si può rintracciare attraverso il suo percorso è qualche cosa che forse lui ci avrebbe raccontato anche nella sesta lezione americana che non ha fatto in tempo a scrivere quella intitolata consistency consistency è una di quelle parole piuttosto intraducibili in italiano io provo a ricondurla a un modello letterario e gnoseologico che è un poema in prosa un poema cosmologico di Edgar Allan Poe Eureka pubblicato da Poe nel 1848 un anno prima della morte di Poe dove consistency è la percezione la visione di un universo come un tutto coerente organizzato e armonico e legato nelle sue parti la visione è un universo come un intero nelle sue connessioni interne sia nelle connessioni sia nell'interezza e questo mi sembra e questo mi sembra importante cioè un elemento centripeto in Calvino che è quella sorta di midollo con cui ritorniamo alla domanda che faceva Riccardo insieme nel frattempo Anna però poi vogliamo sentire anche voi non parate che soltanto i docenti qua i signori forse se vieni qua forse registra meglio la tua voce perché voglio chiederti a partire proprio dall'immagine della conchiglia se ci parli un po' di un rapporto del rapporto tra Calvino e Levi nel senso che la conchiglia che continuamente emergeva nel tuo discorso mentre tu parlavi ma è veniva in mente il fatto che è una metafora ricorrente anche per Levi può essere la secrezione della scrittura così come la secrezione del guscio della protezione e poi adesso mentre stavi parlando di Calvina stavi descrivendo la scrittura così aperta così chiara insomma sembrava tante delle cose che dicevi avrebbero potuto applicarsi anche a Levi eppure sono scrittori diversissimi e estremamente simili quindi insomma siccome sono arrivata a se vinto una pagina del docento quindi non ti sei ancora beccata tutte le pagine su Calvina e Levi e ok spoiler allora sfoglia libro vivente facciamo dai un sacco di pagine sono sono dedicate a Calvina e Levi non sulla conchiglia per quanto appunto qua possiamo fare un prolungamento c'è un'altra poesia di Levi che si intitola Meleagrina poesia del 1983 dove caratteristicamente sì Levi parla anche lui del guscio e la conchiglia e della sua iridescenza Calvino Levi fa queste poesie prosopografiche dove un personaggio che può essere un uomo come Galileo Galilei per esempio o come un imperatore precolombiano Quaina Capac viene avanti si presenta al pubblico un po' come fa WUF nelle Cosmicomi che parla e fa un monologo ma può essere un animale può essere una pianta può essere per l'appunto una conchiglia e lì l'accento è su due cose sì anche lì sulla polpa sulla iridescenza di questo guscio di questa madre perla fortemente cangiante e del granello di sabbia del granello di dolore concetto idea centrale in primo Levi che dà vita alla perla ed è una sorta di forte trattenuto grido di dolore che Levi non si permette nella prosa ma si permette più spesso nella poesia soprattutto nelle poesie che scrive immediatamente dopo essere ritornato da Lager le prime poesie che addirittura precedono la stesura di Se questo è un uomo quindi vedete che c'è un investimento c'è un investimento emotivo in Levi in questa poesia ancorché anche lui nella trasposizione di un altro personaggio anche lì c'è una conchiglia che parla in prima persona così come V nella spirale però l'elemento emotivo l'elemento del dolore è molto più forte che in Calvino in questa poesia dopodiché se noi dovessimo guardare tutto l'arco della produzione dei due beh ci sono parecchie sorprese a cominciare dal fatto che questi due debuttano a distanza di un giorno 10 ottobre 1947 il finito di stampare del sentiero di ragno 11 ottobre se questo è un uomo da De Silva e poi due cammini paralleli due cammini paralleli che poi diventano molto vicine l'una all'altra queste due parallele e cominciano a intrecciarsi in tutti i modi nel momento in cui Calvino si accorge che Levi stava prendendo una nuova strada fantastica geniale perché Levi le cosmicomiche o qualcosa che somiglia alle cosmicomiche e caspita comincia a scriverle molto prima di Calvino e Calvino se ne accorge e prende da Levi al punto da dedicargli le cosmicomiche con una dedica che dice a primo Levi che si è avviato prima di me su questo sentiero giocando sulla parola sentiero sul debutto comune e dice Levi siamo due fratelli putativi siamo due fratelli separati qui io ho provato a raccontare un episodio in particolare che ecco un po' potevo raccontare la storia delle due conchiglie per far vedere l'approccio diverso l'approccio empaticamente e gnosologicamente diverso rispetto a uno stesso fenomeno rispetto all'esistenza da parte di Calvino e di Levi invece raccontarlo con la conchiglia l'ho raccontato attraverso la loro scoperta letteraria dei buchi neri cioè questi due leggono gli stessi identici articoli tecnici di cosmologia che sono usciti o sull'edizione originale di scientific america lei legge in inglese Calvino li legge in traduzione italiana sulle scienze e da quel momento in poi tutti e due in un modo o nell'altro continuano a parlare fino alla fine di buchi neri ed è una storia non è che non voglio fare spoiler è talmente è talmente intrecciata talmente e diventa talmente complessa a livello letterario a livello scientifico è un trend che si può che si può seguire per per lungo tempo quindi effettivamente uno dei uno dei personaggi principali ecco sulla sulla conchiglia invece mi è sembrato che la vera controparte di Calvino fosse proprio Zanzotto Calvino entra entra in empatia con Zanzotto proprio sulle sulle conchiglie sulla conchiglia fossile di Zanella e si va avanti ancora su quel su quel tema per parecchio tempo ma era incredibile mentre mentre scrivevo come eh certi temi e certe immagini tornavano a saltare fuori dagli dagli angoli più impensati sì ragazze e ragazze non si affateli sentire no allora guardate che le vostre curiosità anche se a voi sembrano banali anche se a voi sembrano poca cosa non lo sono non lo sono mai io ogni volta devo ripetere sta cosa qui per dire ciascuno di voi c'è una c'è una domanda qua sulla ponte della lingua se no non la faccio è troppo scema non è scema fatela vi prego perché se qualcuno controlli vede curiosità in merito di Domenico Scari no no vabbè voglio dire con Giulia esauriamo esauriamo diciamo i senior poi vogliamo vai vieni vieni tu vieni qua siamo lo che si sente sì sì ti aspettiamo che si magari maturano matura qualche domanda nel frasempo prego la scea di Anna e ti chiedo di Natalia di Nisburg e dell'escritismo in generale nel senso abbiamo parlato di 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 secondo te ah quali scritti allora intanto avete capito questo libro qui è un ju box e io mi presto e io mi presto volentieri perché suonare la no suonare la canzone Natalia Ginzburg è è particolarmente intonata quella canzone lì nel senso che perché c'è un articolo che lei scrive in morte di Calvino che si intitola Il sole e la luna, che è un libro dove io cerco di non elogiare troppo gli scrittori, perché se sono bravi lo deve dire il lettore, non devo stare io a dire continuamente, ah guardate il barone com'è bello, no, i gridolini se li deve fare qualcuno non sono io. Allora c'è un articolo di Natalia Chinzibur scritto in morte di Calvino che si intitola Il sole e la luna, e lo dico lì a chiare lettere, insieme con un articolo di Pasolini, un articolo di Pasolini sulle città invisibili, per me la cosa più bella che sia stata scritta su Calvino, se la giocano Pasolini e Natalia. In particolare l'articolo di Natalia in questo libro a pezzi c'è praticamente tutto quanto. Dal momento in cui questi due si incontrano nel gennaio del 1946, vi fa questa descrizione essenziale, petrosa e perfettamente vivida, nelle stanze della casa di Trice e Naudi davanti a una stufa di coccio che se ci mettevi le mani sopra te le macchiavi di rosso. E si mettono a parlare in piedi, dice Natalia Chinzibur, perché non abbiamo preso una sedia. La sedia che non hanno preso ti resta impressa. Anche perché divagazione, lei qualche anno dopo ha scritto un articolo sulla morte, dove si è immaginata l'aldilà, dove un posto dove le anime forse stanno sedute in uno spazio senza dimensioni, senza la sedia. Perché non abbiamo preso la sedia? Eravamo già morti nel 1946, o io eravamo una vita davanti. Avevamo una vita davanti, ma io adesso sto contemplando il mio amico che è morto. E racconto di quando ci siamo visti, racconto di quando siamo andati a trovare Hemingway e siamo stati a un tavolino illuminato da candele con lui e gli abbiamo potuto dire quanto amavamo il suo racconto Colline come elefanti bianchi. Posso raccontare di Calvino e delle città invisibili, posso raccontare di quando ho visto Calvino dopo la sua operazione al cervello, dopo l'ictus, e pensavo che si sarebbe alzato presto da quel letto. Lo sto un po' rovinando questo articolo che sto raccontando. Calvino parla a Natalia di come si disegnano le conchiglie. Io ne parlo in una lettera del 1950. Gli parla delle conchiglie che stava cercando di disegnare a Sanremo nell'estate, una di quelle estati in cui lui non riusciva a scrivere, una di quelle estati in cui stava in crisi, una di quelle estati in cui non scrivere un romanzo era la condizione normale perché non ci riusciva, perché non ce la faceva e si era messa a disegnare conchiglie. E dice, Natalia, non ti metterò a disegnare subito queste conchiglie perché sono difficilissime. O quando dice, e lo dice in un discorso su Natalia Ginzburg, su Le voci della sera, la poesia forse è questo, far passare il male in un imbuto. Vedete che ritorna continuamente perché Natalia ha scritto questo libro stupendo, Le voci della sera, nel 1961, poco più di cento pagine, un libro breve che contiene molte storie molto lunghe, definizione d'autrice che è una definizione geniale. E Calvino rilancia presentandola al premio strega dicendo, ecco, Natalia è riuscita a fare questo, la poesia è questo, far passare il mare in un imbuto. Ma al di là di questi episodi, Natalia Ginzburg, e Giulia questa cosa la sa bene, si può dire che è il clavicembalo ben temperato della casa editrice in Audi. Cioè, nel momento in cui le cose, gli avvenimenti passano attraverso quell'orecchio e attraverso quella voce, ci arrivano con il tono giusto. L'ambiente di Torino, il mondo di Einaudi, questo mondo così complicato, così vario, con personalità così spiccate, anche schiaccianti, aveva alcune voci alle quali ci si può affidare per capire che cosa succedeva. Naturalmente Calvino è una di quelle voci, non solo per Torino, ma, abbiamo detto, per tutta la storia del dopoguerra. Ma se poi vogliamo raccontare Calvino, ecco, se vogliamo raccontare Pavese o Leone Ginzburg, Massimo Mila, leggete gli scritti di Massimo Mila, se vogliamo capire Calvino, Einaudi, quel periodo lì, la voce di Natalia Ginzburg, servivano in questo libro alcune voci che ti dessero ogni volta il diapason per intonare la tua. Le fai tintinnare e segui quella voce lì. Natalia Ginzburg, al di là di tutto quello che può aver detto o non detto su Calvino, sono andato a scopare un suo giudizio stupendo sulle fiabe italiane, che sta in un'antologia, anche quella, Anna, la conosce, per le scuole medie e la vita, 1981, tre volumi, dove lei dice una cosa straordinaria delle fiabe italiane di Calvino, chi sa se riesco a ritrovarla. Eccola. Le fiabe di Calvino sono tutte secche e concrete e non vi cresce una sola parola sospirosa o lamentosa o superflua. non muovono né alla pietà né alla tristezza, ma seguono il corso allegro, spedito e robusto della vita. Per me quei tre aggettivi così semplici, così concreti, sono semplicemente straordinari. Aggettivi migliori al mercato non se ne trovano. Sono ancora umidi, appena colti dal campo. Sono anche asciutti, l'umido ce l'ho messo io. Dai qualche domanda. Senti, come c'è il creato di una biblioteca? Sì. Come hai risolto la morte? Come ho risolto la morte? Vi leggo l'ultima pagina e cerco di non piangere. L'ho risolto con quattro citazioni. Quattro scrittori. Due astratte e due concrete. Prima le astratte e poi le concrete. Scusate se svelo il gioco, ma se ci si arriva senza la preparazione, lo devo spiegare per forza. Quando muore una persona, c'è chi racconta l'ultimo incontro e c'è chi riporta le ultime parole che questa persona ha detto. Ascoltate o riferite. Quelli che seguono sono i ricordi di Pietro Citati e di Gianni Cellati. Due giorni prima dell'attacco che lo portò a morire, venne da noi a cena qui alla Castellaccia, a quello che parla il Citati naturalmente. si era liberato da quello che per lui quell'estate era stato un peso, cioè le lezioni americane. Tutta l'estate non aveva fatto i bagni, era sempre stato in casa a studiare, a scrivere, e alla fine si malediceva. Strana cosa, perché quel libro è così intelligente e leggero. Si malediceva perché diceva che io sono uno scrittore, non devo fare il critico o il teoreta. Ho perso un anno della mia vita a scrivere queste lezioni. e con gli occhi brillanti raccontava che si sarebbe messo a scrivere subito una serie di racconti del tipo delle città invisibili. Celati. Prima di cadere nel sopore che precede il coma, ha cominciato a parlare come se leggesse un libro, pronunciando queste parole molto scandite. Panni di marzio, fenomenologo, le rette, le parallele. E dopo non ha più parlato. Per lui la geometria era un'idea di chiarezza e amava poco il buco dell'anima, il nero che abbiamo dentro. A lui piaceva l'esprit de geometrie, come un pascal al rovescio. Negli ultimi tempi si era messo a studiare la fenomenologia di Husserl. Vanni di marzio è un nome che non esiste. L'ultima sua frase riassume tutto. Con le rette e con le parallele di Vanni di marzio ritornerebbe l'ordine astratto della mente. Ma chissà. Forse era tutto più semplice e misterioso, così com'è negli ultimi due ricordi di Natalia Ginzburg e di Carlo Fruttero. L'ultima volta che ho visto Calvino vivo è stato in una stanza dell'ospedale di Siena il giorno dopo che l'avevano operato alla testa. Aveva la testa fasciata, le braccia nude fuori dal lenzuolo, abbronzate e forti ed era assopito. Il suo viso era pieno e calmo, il respiro tranquillo e sano. Non aveva nel viso segni di sofferenza. Ho pensato che presto sarebbe guarito, si sarebbe alzato da quel letto. Nei giorni successivi i giornali riportavano frasi che aveva detto quando si era svegliato. Aveva guardato i tubi delle fleboclisi, aveva detto sembra un lampadario. Era entrata la figlia e gli aveva detto chi sono io? Aveva detto tu sei la tartaruga. Uno dei medici gli aveva fatto qualche domanda e poi gli aveva chiesto chi sono io? Aveva detto un commissario di polizia. Per coloro che gli volevano bene quelle frasi erano un dono prezioso. Il segno era sempre lui e niente era cambiato nella sua persona. Che nella sua mente ruotavano ancora delle tartarughe, dei lampadari, dei commissari di polizia. A poche decine di metri dalla spiaggia da cui Palomar scrutinava le costellazioni e selezionava le onde, circondata dal prato dove Palomar decodificava i segnali dei merli e classificava i fili d'erba, se ne sta acquattata una casa in stile rustico pilanesiano. Compresso fra un tetto di rosse tegole che spiove su tronchi e travoni variamente angolati e un pavimento a rossi riquadri di cotto, l'interno è ricco di dislivelli, spigoli, nicchie, absidi, gradini, scale, scalette volanti e circolocutorie che nascondono in un certo senso l'assenza di Italo ma al tempo stesso ne suggeriscono continuamente e crudelmente l'apparizione. Discendente compunto col vassoio del caffè, scavalcante gotto uno sgabello, ascendente corrucciato in cerca di un libro, saltellante premuroso a procurare un portacenere a corrente rassegnato al telefono. È una casa movimentata come si dice che favorisce ricordi di movimento e dentro la quale per chissà quale animalesco capriccio è riuscito nei giorni scorsi a penetrare uno scoiattolo intrufolandosi fra le stecche verdi delle persiane e mettendosi poi a fare un gran movimento correndo istericamente in su e in giù non si sa se atterrito o felice. Così dice un applauso a te oltre che a te oltre che a te te oltre che a oltre che a grazie grazie ancora a Domenico Scarpa per questa bellissima lezione e anche per la condivisione di queste ultime sezioni ringrazio tutti i presenti e do appuntamento al prossimo incontro del ciclo che sarà il 24 di maggio all'Accademia dell'Internati dell'Incittà con un assimiliano conto al Cantino e Canna del Novecento presto grazie a tutti e a tutti